Quanto strano è il racconto del Vangelo secondo Giovanni scelto per questa domenica di Pasqua. Di fatto non si parla di Gesù risorto che appare suoi, addirittura Maria di Maddala adduce l'assenza del corpo di Gesù nel sepolcro come un'opera umana perché probabilmente qualcuno l'ha portata via, eppure l'epilogo si conclude con queste parole, vide e credette, riferite all'altro discepolo che Gesù amava, ma cosa vide, cosa credette? Lui vede soltanto degli abiti, dei vestiti lasciati nel sepolcro, ma questo è il punto. Crede alla resurrezione significa lasciare gli abiti vecchi, lasciare i vecchi vestiti, lasciare le abitudini, accogliere una novità del tutto integrale e assoluta. Credere alla resurrezione significa un nuovo modo di vivere, di pensare, di relazionarsi, di accogliere la propria vita. Questo è il messaggio della resurrezione. Resurrezione di Cristo nella nostra vita, nella nostra carne, significa lasciare l'uomo vecchio e accogliere l'uomo nuovo, rivestire una veste nuova che è la veste bianca del battesimo. Che il Signore ci done di credere alla resurrezione perché accogliamo una nuova vita nella nostra vita, che non è un prolungamento o un aggiustamento delle vecchie abitudini, ma è l'accoglienza di una novità che dà gusto alla nostra esistenza. Buona Missio.